L'annuncio lo ha dato la mamma con un video su Facebook. Edoardo è stato ritrovato. Il 17enne è scomparso da venerdì dopo essere uscito dalla sua abitazione di Testaccio, dove vive con la madre Claudia Persia, dicendo che aveva un appuntamento con un amico, era confuso e non distante da casa, ma sta bene. I militari della compagnia Roma Centro si sono mossi nelle ultime ore soprattutto nella zona di Tor Tre Teste, dove fin da sabato scorso si erano concentrate le ricerche, anche perché l'ultimo segnale della cella agganciata dal suo smartphone collocava la presenza dell'apparecchio proprio fra Centocele e Quarticciolo, quindi non lontano da dove il ragazzo, secondo alcune testimonianze, era stato visto da persone che avevano poi segnalato il fatto. Il giovane è stato notato anche da un'amica di famiglia mentre si aggirava stamane lungo via Marmorata, a piedi, in stato confusionale. La donna allora ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno preso in consegna al giovane. Non aveva segni di violenza o maltrattamenti, era senza telefonino, non ricorda dove lo ha smarrito. È stato accompagnato a un bar per fare colazione e poi lo ha raggiunto la madre.